secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie omba oggi se parte male di norma partivo sempre per quello che a steven a steven a steven ma magari steven steven posso 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 augurarti che la che il tuo albero genealogico scompaia posso farlo ma che rampezza la tuttora è giusta ma non ti voglio uccidere ti giuro non ti voglio uccide però non so l'assassino non so quello strano marzo non ci capisco niente non ci ho capito zanno mentre beh ragazzi mille sub 12 ore mille sub iniziamo la 12 ore stasera va bene avete scritto questa puttana te a me va benissimo guarda signore terribile persone grazie per i quattramo ciao volevo dichiararmi cristina ti amo at geccone grazie per i sette invece cominciamo a ragionare non mi sii ma che cazzo ti provo vabbè l'artlan c'hai più le dita potevo vabbè l'artlan c'è solo un gioco no me sta a dirtar cervello non ti toi ce vado AAAAAAAAAAHAHAHA al demone dell'odio LA PRESA DA AGUcurrent fammi veda naa presa da agore E scappa a mi madre Porco oddio mi sono cagato Ma stiamo scherzando Ma secondo quale logica mia madre è spawnata dal nulla lì Ma che cazzo sto a vedere Ma che Tagliatela un po' la barba Madonna ragazzi è inquietante Sembra di fare la streaming Sembra tipo il coso Che è The Purge La notte del giudizio Inquietante Poi proviamo Sono partito sono stronzo come la merda Deluxe quando guarda le stream E dice che non sta a guardare streaming E' un sogno che sale Su è giù dalla nord Io? Io? La tua stream aperta? No List autenti Deluxe Io? Io? No ma posso? Ma non posso? Si opera Mori a chiappo le sub figli di puttana Fatemi tornare bambino La legge room Dovresti trovare Marzò Allora quindi faccio Return Menù Play 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 online Devo trovare la legge room Eccolo Due su due E' già ma Devi allargarla La lobby Se no è già piena Dimmi bello Considera che quando ti entra uno in lobby Ti parti tipo Il versus Con il nome scritto elegante La faccio io E tutto Mi è entrato uno Grande peneturgido E' partita L'animazione con scritto Grande peneturgido Ma che cazzo di giochi Ma vedi che sono la mina Porca madonna Voi che entrate Non entrate Ricoglioni Ma la faccio io? Sì Tutto questo a causa di una mocciosa Che non è neanche qui Che cazzo ne fai? Tu miserabile ecoista ingrato Che voleva dire? Ti introduci nella mia casa Con quelle luride noi Ti permetti di toccare le mie figlie E adesso cerchi persino di rubare Le mie proprietà Come osi La madonna Cerca di goder Modeggine c'è qualcuno Li conosco troppo bene Sti giochi di No Allora il finto jumpscare Nel jumpscare Che dici Ah non è vero Che c'è Ah Lo vedi Lo vedi Stronzi Che devo fare? Devo cure Però ti ne ho fatti tre io Uno pure su assist Di Ivan Griego Secondo me domani Ivan Griego Cioè domani Già stasera Ci sarà Ivan Che sarà così Sarà tipo Ho fatto Scusa ma L'hai sbannato Ferro mister? Chiedo un attimino E Sarà tipo Ho fatto segnare Blur Ho fatto segnare Blur Ho fatto Rovinerà la mia carriera Da sindaco di Roma Rovinerà la mia carriera Ora come faccio? Ora non Come ne parlo? Male Sarai Sarai vanno Tipo distrutta Ho fatto Regà Da dietro al centro campo Una scucchiaiata Ha superato la difesa E stava C'è stava un pischello Che stava a giocare Centrale difensivo Non buono No No non lo è Ma questa è già muovi Ok sto io Non c'è più Fa uno dei vetti Guarda come Guarda che scher... Mamma mia Come se ne è andato A giocare Madre Piatti Rob Arriva 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 Bono 35 bombole Che ha poi Easy clap Dovrei prendere Dei punti umane Eh ma Tra te ne coglione Di merda Muori Sgozzato Matteo Grazie mille Per il tavolo Benvenuto Ha distrutto Shrek Manca a far Cos... Oh aspetta Quadrato di avanti Adesso Non è fuori gioco È il capitano È il capitano È il capitano De rovesciata T'ha iniziato Oddio È il capitano